Salve ragazzi, vi rubo due minuti prima di cominciare col video perché volevo raccontarvi un pochettino quello che alcuni di voi hanno già visto sui miei social. Infatti sono stato al Luca Comics nei giorni passati, per la precisione sono stato ospite della Vodafone. È per l'appunto nell'area Vodafone che ho incontrato alcuni di voi, ma a dire il vero ho fatto un sacco di cose durante la giornata e quindi volevo raccontarvele un pochettino. Alcune già le conoscete, se mi seguite su Instagram sapete che lì e sul profilo ufficiale di Vodafone Unlimited abbiamo fatto varie attività, come ad esempio un giochino molto divertente di reattività per i gamer. Dove tra l'altro ho vinto quel cappello che vedete alle mie spalle con l'hashtag playfaster. Ho provato la connessione super veloce Vodafone, anzi tutti lo potevano fare lì nello stand, c'erano un sacco di iPad a vostra disposizione e si poteva giocare a Clash Royale. Oppure ancora c'era la possibilità di prendere ben 100 giga in regalo, insomma tutto ben organizzato come è stato a Milano il Games Week, sapete che ero presente anche lì, anche lì ho avuto la possibilità di vedere l'organizzazione di Vodafone. Che in realtà va oltre al semplice stand piuttosto che le attività correlate a quest'ultimo, Milano e Lucca erano due tappe del Vodafone Esport Tour. Un torneo di Clash Royale organizzato ovviamente da Vodafone powered by ESL, di cui vedremo sicuramente altre tappe sparse per l'Italia ma con due premi da urlo. Il primo un viaggio a New York completamente spesato per vedere i top player di ESL One e due la possibilità di partecipare alla serie A ESL Summer Season, quindi diventare dei veri e propri pro player. Ragazzi vi ricordo che questo torneo è aperto a tutti. Detto questo io non mi dilungo oltre, vi lascio al video e buona visione. Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Clash Royale. Cosa ci faccio con questi occhiali? Il fatto è che ho dimenticato i miei occhiali fuori casa e quindi le opzioni sono due. O fare il video senza occhiali e credetemi non vedo assolutamente niente, o rispolverare i miei vecchi occhiali signori. Oddio. E zè, puliamo gli occhiali con la canutiera, zè. Se c'è qualche ottico in questo momento che sta guardando il video, li staranno sanguinando gli occhi. Ma questi artefatti, sì, perché ormai sono proprio delle reliquie, sono qualcosa di antico questi occhiali. Avevano proprio la polvere sopra, non li usavo da un sacco di tempo. Però ci vedo ancora discretamente. Prima di cominciare bisogna dirvi due cose molto importanti. La prima è di mettere un bel pollicione in su come al solito per questo video bomba. E la seconda è che laggiù il pacco non c'è più. E questo, oltre a fare rima, vuol dire che ho registrato lo speciale 90.000 iscritti. Non esce oggi appunto perché volevo dare la precedenza a questo video, anche perché è una notizia fresca fresca. Ma tranquilli, probabilmente domani ci sarà lo speciale 90.000 iscritti. Quindi vi aspetto sul canale perché ci sarà un big contest. Vi ricordo, 15.000 gemme. E vi comincio già a dire che la domanda in questione non sarà una semplice domanda come al solito dove bisogna rispondere nel minor tempo possibile. Ma bisogna anche ragionarla un attimino perché va tanto a fortuna il contest di questa volta. Scusate se spesso guardo da questa parte ma sto fissando lo schermo della videocamera perché mi fa strano vedermi con gli occhiali vecchi. No, no, lo sapevo già di non essere a posto, tranquilli. Allora ragazzi, facciamo subito un salto qua nella sezione news perché oltre all'annuncio di Brawl Stars, vi ricordo a metà dicembre non c'è ancora una data esatta esatta ma uscirà Brawl Stars. Signori, di questo ne parleremo comunque ancora in settimana. Sempre qua nelle news abbiamo questa introduzione della Fanta Royale. Idea a mio parere geniale che Supercell ha voluto promuovere ulteriormente mettendo in regalo, in regalo, delle emote speciali. Infatti queste quattro emote che vedete qua nell'immagine le possiamo ottenere in maniera gratuita. Vi ricordo che questa è la prima volta che Supercell dà la possibilità ai suoi utenti di ottenere delle emote gratis. E quindi ovviamente voglio spiegarvi come fare. Ragazzi, una di queste emote, vorrei farvi notare quella col dito in su così, è addirittura firmata CRL. Perché queste emote qua sono le emote della Clash Royale League. Che se ancora non conoscete non è niente po' di meno che il torneo mondiale di Clash Royale. Proprio una cosetta da ridere. Purtroppo l'Italia in questo torneo non vedrà dei commentatori o dei personaggi che potranno seguire l'evento. Ma sarà un evento molto speciale come quello che c'è già stato. Vi ricordo che questa statuina del Barbaro Dorato si poteva ottenere solamente a Londra andando all'evento della Crown Championship 2. E chi lo sa che magari anche in questa Clash Royale League a Tokyo non ci sia qualche gadget speciale, qualche action figure speciale che come sapete mi piacciono abbastanza. Io ho una piccola passione per queste cose. Ma insomma, arriviamo dunque. Come si ottengono e che cos'è questo Fanta Royale? Che cosa c'entra con la Clash Royale League? Allora, come c'è scritto qua nell'articolo, dobbiamo cliccare nella sezione eSport. Qua sulla destra si aprirà una sezione ormai dedicata da parte di Clash Royale al mondo dell'eSport, al mondo del Competitive. E oltre a tutte le notizie che ci sono sempre state e troverete sempre riguardanti appunto al mondo del Competitive, potete trovare qua in cima questo bel tastone Play Now, gioca ora al Fantasy Royale. E già dal nome, chi magari ha giocato al Fantacalcio, piccolo esempio buttato lì, può già aver intuito qualcosa. Perché proprio come nel Fantacalcio, nel Fantaroyale, voi potrete andare a scegliere quelli che sono i migliori player. Ok? I migliori player, io onestamente ne conosco qualcuno, ma non tantissimi. Quindi onestamente sarà difficile anche per me. Dovremo andare appunto a scegliere i migliori player che avranno delle statistiche, eccetera, eccetera, e giocare effettivamente con i player, non con le carte. Vabbè, insomma, proviamoci subito. E qua c'è anche una cosa molto interessante, ovvero oltre alle emotes gratis, c'è la possibilità di vincere una parte del Monte Premi che è di un milione di gemme. Un milione di gemme, penso che ci maxate tipo, boh, la vita. Comunque, come al solito, gli lasciamo un bel cuoricino che è importantissimo e facciamo Play Now. Ho missato il tasto. Allora, costruisci il tuo Fantasy Royale deck. Ok, abbiamo tre step. Step number one, pick your line up. Costruisci il tuo deck Fantasy Royale, selezionando quattro giocatori della CRL. Le emot gratis, vedete, ce lo dice subito, verranno giunte al tuo emot deck, quindi la raccolta delle emot, qualche ora dopo la selezione della tua line up. Quindi, tranquilli, se non è una cosa immediata, magari non lo riusciremo neanche a vedere proprio in questo video, ma già dal prossimo potremo vedere le emot speciali. Allora, step number two, delle corone verranno giunte al tuo punteggio, per ogni corona, appunto, fatta dal tuo player, quello che andremo a selezionare, nella CRL a Tokyo. Ok, quindi anche qui, semplice spiegazione, andiamo avanti. I partecipanti con più corone, alla fine della finale mondiale, potranno dividere questo milione di gemme. Quindi, attenzione, partiamo pure. Allora, qua dice set your line up. Ok, qua non possiamo selezionare nulla. Ah, ecco, ecco, allora, abbiamo i player per ogni team. Ah, addirittura potete anche randomizzare il deck, se non sapete assolutamente chi scegliere. E quindi, niente, vammonos. Ci crederà una conferma, io gliela do molto volentieri, ok. E, ecco qua, il mio team, appunto, in questa zona. Qua c'è scritto, appunto, start in 11 giorni, 7 ore, 24 minuti. E ora non mi resta altro che attendere le mie care emot, che dovrebbero arrivare, in teoria. Speriamo, speriamo. Ma usiamo il Supercell ID per switchare molto velocemente il nostro account. E andiamo subito qua, nell'account di livello 1, dove, tra l'altro, c'è un bel bauletto da aprire. E delle gemme gratis nello shop, attenzione. E, ovviamente, vado anche qua, nella sezione eSport, perché questa modalità, molto importante, è disponibile anche per l'account di livello 1. Sì, ma non si può fare con più di un account, uffa. E neanche con più di un device, aspettate, provo col telefono. Ah, no, ecco, si può fare con più di un device. Quindi io, dal mio telefono, teoricamente, posso fare questa cosa. Allora, facciamo una bella cosa. Notifiche di ebay permettendo. Riswitchiamo gli account. Quindi torniamo con il tablet su ferre principale e sull'account di livello 1 col telefono. Così posso andare, appunto, nella sezione eSport e cliccare su Play Now. Ovviamente qua si vede poco, ma è la stessa roba che vi ho fatto vedere prima, scusate. Ecco qua di nuovo la stessa schermata. A questo punto provo a scegliere dei player un attimino diversi. Prendo qualcuno degli Immortal, che prima non li ho presi. Quindi, ecco qua, selezionato il mio deck, vediamo un pochettino come se la cavano. Speriamo di vincere queste gemme. Quindi, insomma, non si possono usare più account, ma si possono usare più device. Quindi, teoricamente, voi potete chiedere anche ai vostri amici di partecipare a questa cosa. Sicuramente è un modo migliore per puntare su più player e avere più possibilità di vincere. Ad ogni modo, le emot sono gratis per tutti. Quelle, secondo me, già valgono la pena di provare questa nuova modalità. A tutti gli effetti, nuova modalità. Ragazzi, voglio fare adesso una partitina in ladder, perché ho tutti i bauli nelle slot, quindi nelle slot sono a posto. Ma sono a 4421 copie, quindi sono molto, molto basso. Devo risalire. E, signori miei, andiamo con una partitella. Ok, sto ragazzo qui è in un clan di livello 1. Strana questa cosa a Lega Leggenda. Eee, ciao in Lega Leggenda. Forse al massimo, Ferre, volevi dire in sfidante, in sfidante 2. Ok, attenzione, con quest'orda di scheletrini sul bombarolo. Lo so, è un po' un azzardo, ma ci sta tutto. La Zap me l'ha sprecata sulla Sparky, quindi appunto sull'orda non può fare niente. Spiritelli, un po' rompo i marroni, però la Sparky mi fa fuori gli arcieri e a me già basta così. Perché io ora riparto col gigante e il trio di sgherri. Lui mi piazzerà sicuro, come loro, i barbari scelti. Un po' più sicurissimo. Eh? No? Non mi piace. Ah, eccoli lì. Lo sapevo che arrivavano. Butti anche le frecce o non c'hai l'elizir? C'hai l'elizir. Bene, mi fa piacere. Mi fa molto piacere. Vediamo se riusciamo a piazzarti l'orda di sgherri. Oh, ciò che mi vanno a hittare, quei cosi lì. E... Uh, neanche una hitt. Zap pronta? Zap pronta? Vai così zappa tutta la vita? No! Se lo sape... C'avevo gli spiritelli. Lo sapevi, non se lo sapevo. Lo sapevi, Ferre. Sei un pollo. Oddio. Mi stavo tipo ammazzando. Per due, quindi... Puscia di sparchi! Ok? Vai anche col loro dei scheletrini. Ocio ha quella mongolfiera. Eh, Ferre. Ocio ha quella mongolfiera. Te le prendi, eh? Te le vuoi proprio prendere da quella mongolfiera? Che una volta hitta. Non c'è verso. Ok? Eh... Ha buttato le frecce, però. Quindi vai di sgherito la vita. Pronto con la zap su gli spiritelli a sto giro. Attenzione. Attenzione, s'il vous plaît! Attenzione, s'il vous plaît! E... La torre Jason Fée! Ok. Vamonos di doppia sparchi. Ok? E andiamo anche di Bariletto. Qua fa male, eh? Qua dovrebbe fare un po' male. No, si è difeso ancora abbastanza bene. Ti butto un'ordine di scheletrini abbastanza volentieri, amico mio. Ok? Butto anche una principessa. Butto anche i cosetti qua cososi. Vai con la zappettina. Occhio. Eh... Ok, abbiamo vinto. Giusto? Lui la torre non me l'ha tirata giù. Non so perché mi ero preso malissimo. Ho giocato male. E ho vinto lo stesso. Va bene. Facciamone un'altra, per favore. Mamma mia, Ferre, se sei fuori all'allenamento. Mamma mia. Allora. Vamonos di gigante subito. Sì. Giocata un po' così. Però almeno inizio subito con un piccolo push. Anche se il gigante si prende tante botte da quella gang. Mamma mia. Cos'abbiamo? Un log bait contro? Mi faccia capire? Abbiamo una Valkyria laggiù. Ok. Valkyria, Valkyria, Valkyria è più mago. Come lo gestiamo? Vado di principessa per il momento. E al massimo ci piazzo una Sparky. Per forza. Vado così. È una mossa un po' del cacchio, lo so. Però non posso fare diversamente. Ok. Eccolo lì. Quante belle hit che mi hai fatto, eh. Con sta giocata del cacchio, Ferre. Allora. Vediamo di ripartire. Andiamo subito a fare una mezza hit su quella torretta. Che non va male. Zappiamo lì, per favore. E quali sgheri ci starebbero abbastanza, eh. Quel miner è arrivato proprio nel momento peggiore possibile. E... Signori miei. Signori miei. Qua ci starebbe un gigante a prendersi le botte dal mago. Eccolo. Arriva il doma? Arriva il doma. Ok. Quindi lì ci butto un bariletto in difesa. Sì, una mossa un po' strana, ma... È l'unica cosa che potevo inventarmi. Tra l'altro lui zappa malissimo. Proprio la zappata peggiore che potevi fare. Perchè ora ti piazzo una bella... Orda di scheletrini. E lì difenderti... Come cacchio fai? Con la Valkyria? Eh, l'unica cosa era la Valkyria che potevi fare. Ok, però tanto ti hito lo stesso e abbastanza anche. Ok. Direi che posso andare tranquillamente di sparchi. Lui probabilmente andrà a zappare. Se ha pushato col domatore da destra vuol dire che secondo me almeno un rocchettino ce l'ha. Almeno un rocchettino. E... Sì. Secondo me ce l'ha. Perchè altrimenti non mi lasciava scoperta così una torre lì. Però non ho fatto il conto delle sue carte. Altro errore. Quattrocento... Forse è convinto di farmi la torre. Non so. Perchè a me sembra che le abbia buttate le carte. Ocio al magaccio. Al magaccio infamone. E... Qua ci devo buttare uno sparchi. Non mi piace come difesa. Credetemi. Ma è l'unica cosa che mi è venuta in mente. Ok. Via. Tira via quella roba lì. Vai in questa maniera qua. Opla. Vai di principessa. Super. Super veloce mount. Vai con l'orda di scheletrini. E l'orda di scheletrini che arriva molto in ritardo. Il domatore riesce a hitare ancora parecchio. Però. 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 Vai così. Buona. Buono il timing. Buonissimo il timing. Vai a zappare una volta. Please. Ok. Lì arrivano delle botte serie. Soprattutto sulla torre centrale. E io. Anzi era andato di barile sulla centrale. Non me la cagavo più la mia torre. È bella. Molto bene. Ciao gue. E un saluto. E insomma. Doppia vittoria. E... Al primo colpo. Tutto sommato va ancora bene. Apriamo una crown chest. Al volo. Proprio. 1.4 di oro. Un 3 gemme. Un 4 arcieri. 53 spinitelli. Strega. Che mi fa infartare. Perché pensavo ci fossero le leggendarie. Ma no. Mancano delle rare. 12 capanne. Ma insomma. Io direi che siamo giusti al termine del video. Se vi sono piaciute le motte gratis. Lasciatemi un bel like. Come dice le motte. Ragazzi. Se volete restare aggiornati su tutte le novità. Seguitemi su Instagram. Noi ci becchiamo domani. Con un nuovo video. Un salutone. E... Ciao.